Simone Rossi, CEO di Gateway.com, a Sinergie 2018, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Allora Simone, un commento a margine dell'evento? È un evento sicuramente molto interessante, anche per le relazioni che si possono trovare qua. Il nome dell'evento, Sinergie, qua si respira veramente aria di collaborazione, comunque di networking che è sicuramente molto molto importante per trovare una linea comune per poi crescere nel modo giusto. Allora, gli stranieri comprano in Italia? Caspita se si comprano, come abbiamo visto nel mio intervento, i numeri sono sicuramente sempre in forte crescita, sia i numeri del mio portale di Gateway.com, ma anche poi ci portati da sia dati ISAT che dati di altre aziende, comunque di dati, che ci sono fonti autorevoli, esatto, grazie per la parola e il suggerimento. Quindi assolutamente sì, però è un mercato dove noi ci dobbiamo un attimino credere, ma più che al mercato dobbiamo credere a noi come Italia, come paese da un'enorme capacità attrattiva verso gli stranieri, è sicuramente il paese più bello al mondo, questo lo dico comunque con cognizione di causa, e abbiamo una capacità attrattiva che è enorme. Gli stranieri amano l'Italia, però dobbiamo trovare il modo di proporci, di far capire che possono venire qua anche ad acquistare le case, non soltanto in vacanza, ma che c'è un mercato immobiliare che è sicuramente alla loro portata, che può offrire occasioni, comunque offerte per tutti i gusti, perché può soddisfare davvero tutti i gusti, da quelli più, diciamo, alto locati, quindi immobili di grandissimo pregio, anche immobili, ci sono delle offerte immobiliari, ad esempio giù al sud, in zone più rurali, dove con 20-30 mila euro vuoi comprare comunque degli immobili, magari da ristrutturare, però sicuramente queste occasioni qua ci sono. Un consiglio, un consiglio, per la gente immobiliare che vuole esplorare il mercato degli acquirenti stranieri, da dove partire? A parte l'abbonamento a gateway.com? A parte quello, ma comunque è iniziare a proporsi, iniziare a proporre una scelta abbastanza variegata, cercare di capire dove poi l'interesse si può concentrare e puntare su quello, ma veramente il consiglio che do è di crederci, quindi non fare quelle prove, tocca appena appena l'acqua con un ditino, vediamo se è calda o giusta, va bene, poi vada avanti, no, è un mercato che c'è, è una cosa concreta, bisogna crederci e trovare la strada giusta per portare a casa il risultato, che sicuramente arriverà. Grazie mille a Simone Rossi, CEO e founder di gateway.com